Signor ref stiamo per fare un nascondino con gli altri ma grande problema Qua qualcuno nei suoi nascondini ha barato e ha fatto delle cose molto brutte Spiandoci, no, tu, tu, spiandoci nei momenti in cui ci nascondevamo e poi venendoci a trovare Sì ma sembra un nano però così Vabbè sei sotto, sei tranquillo, sei seduto sotto In ogni caso devi fare la stessa cosa con Conti che gioca dal tuo pc e Powa, ok? Molto chiaro? Quindi adesso magari non sarò io a nascondermi, meglio Magari io sono l'Hunter così loro non pensano a nulla Ok invece no, mi sto, no, appunto sì mi sto nascondendo Tu vai a vedere cosa Ok ma no puoi fare a me di dargli fastidio Facciamo, sì, facciamo, sì, nascondiamoci Aspetta, parlo con gli altri così non pensano a nulla Appena invece toccherà noi trovare gli altri li devi sgamare subito Super easy, super easy E quindi benvenuti nel Fortnite di Tichia ragazzi Conti E Powa siete pronti? Powa sei te che cerchi vero? Sì sono io che in questo momento ho un fucile in mano Bravo, vieni a trovarci, siamo in Fortnite di Tichia Allora, te lo dico Io sono prontissimo, mi sono già nascosto però Aspetta, no, però scusate No, no, Powa è partito che mi stavo un attimo nascondendo No, Powa ti prego, lassami Conti, Conti, se tu sei Allora, ti do un altro momento per scappare Ecco vai, scappa, vai via Grazie, grazie Bro, letteralmente era dove c'era lo spawn Eh bro, c'hai ragione, ho avuto poco tempo per nascondermi Ok, no, ok Io sono nascosto invece Powa Stai tranquillo che non mi troverai letteralmente mai Ok Tra l'altro ci sono pochi degli oggetti Signori, vi do dieci secondi Poi dopo questi dieci secondi vi chiedo un indizio E poi parto, ok? No Ah, quindi se dovessi premere il tab Se dovessi premere il tab non succede comunque Ah Eh sì, potrebbe essere successo qualcosa a noi ragazzi Io lo l'ho nascosto bene adesso, eh, in realtà Ok Anche io sono nascosto benissimo Ragazzi, fortemente Che è gigante come mappa, eh Vi direi, vi direi Primo indizio Primo indizio io non sono un oggetto Ah, quindi sei una persona Cioè, sei tu Sei proprio la tua skin Esatto, io sono la mia skin Ok, allora Sai che ferro probabilmente è quello di cui ho più paura Perché non si sente il ping Ma potrebbe essere tipo in un posto assurdo Invece Conti? Allora, io sono in un posto molto bello Ma non te lo posso dire Perché voglio vincere questa nascosto Eh no, eh no Scusa, mi devi dare indizio Allora, io ti vedo Io ti vedo Ti vedo Anche io ti vedo Ti vediamo in due Ok Sopra le toilet Orco Sì, sono sopra le toilet Sì, sono sopra le toilet Oddio Allora, tipo, pensa che Attenzione perché è attrattivo Ok, ora ti vedo strabena Parlate, parlate Ah Ok Mamma mia raga Che schifo lo giuro qui to la partita Non devi infastidire me Aspetta, guarda Oddio È partito Pomp È che chi era per dire sul tempo che ho pierda È che chi era per dire sul tempo Dai, ma non ci credo Che killami Non ha fatto per nulla ridere Ho vinto Ho vinto io, raga Troppo forte No, no Sei stato un infame Perché mi dovreste aiutare In ogni caso Ma sei l'hunter Esatto, sì Esatto Parlate, parlate, parlate ragazzi Due Uno Mi dispiace farli infame Io l'ho visto prima Ci siamo nascosti insieme Ok 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 Ok, io ti vedo da lontano po' Ti vedo da lontano in realtà Ah, da lontano No, no Però non mi fido di questo lontano Secondo me ti posi questa paperella qua, eh Tu super carina Comunque abbiamo soltanto 5 minuti e 40 secondi Quindi dobbiamo un po' muoverci, Powa Ma sai cosa ti dico, Powa? Tu adesso stai pure fermo Lascia fare a me questa cosa, va bene? Ti dico che non mi fido, eh Powa non è per niente capace, comunque Stai fermo e fidati di me Abbiamo 5 minuti e 30 Stai tranquillo con la sua manica Io sono veramente, veramente bravo Ma perché Refe è entrata in stanza mia così a casa? Tu vattene a quel tempo al paese Refe, ma Refe qua a darmi fastidio Ah, ok, no, perché è entrato adesso da me un attimo No, 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 no Aspetta che Refe mi sta dando fastidio E let's go! Vittoria per noi Molto, molto easy Super facile Cioè, in realtà, raga, posso dire una cosa L'ho vinta io Non l'ha vinta, non l'ha vinta Stranamente mi hai trovato adesso Ma come, io t'ho trovato letteralmente No, 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 no Non mi hai trovato Comunque, prossimo, non draga, calmi Non rompete le scatole, dai Che cavolo, cioè Ho trovato Conti Poco mi ha trovato per colpa di Refe Sto vincendo io Non so come hai fatto ad azzeccare esattamente l'oggetto Devo essere sincero Eh, ho sentito il ping tre volte su tre Per questo ho azzeccato l'oggetto Mi puzza, ma ok, va bene, l'accetto Ragazzi, nel frattempo ricordo Codice Ferro nel negozio Jett Per il vero massimo supporto fondamentale Li stiamo trovando di brutto Forse mi conviene un attimo abbassare la voce Ah, tra l'altro tutti Ah, no, ok Ci siamo io e Powa che ci dobbiamo ancora nascondere Incredibile Ma vero, ok Ok, va bene Conti, è il momento della tua rivincita, eh Signor Powa Io non voglio sapere dove ti nascondi né altro No, no, va tranquillo Ah, ho capito Sono vagato Allora, ho dato una notizia Io non sono capace a cercare Quindi in realtà avete già vinto Allora ti do una mano io Poi chilarmi e troviamo in due po', va bene? Va bene, ci sto, ci sto Ah, Gigi, va bene Qualizzazione si chiama questa casa mia Va bene, va bene Allora, guarda Allora mi nascondo Se però mi dovesse trovare Ma no, no, no Fai pure come dicevo Tranquillo, eh Ma tanto Powa è bravo nel nascondire L'ha sempre detto Sì, esatto No, mai detto No, esatto Trovar me in questo momento è davvero tosta, eh Attenzione, attenzione Attenzione Vediamo se mi trova Oh, no No, mi ha già trovato L'ha già trovato Quindi è il tuo momento Incredibile Gigi No, no, ho capito perché Gigi Non flipparla Io Powa mi sono trovato ferro davanti a me Si è fatto uccidere Non so perché Sì, eh Io ho capito perché Non è vero ma è per nulla Io so perché Perché questa si chiama coalizzazione E perché Adesso volete venire a cercare C'è una mano per terra? No, ma Bro Ma stai tranquillo Mi posso Però vi posso dare un indizio Mi posso dare un indizio Un indizio minimo, eh Ma conti Guarda che tanto adesso Adesso Straiardo Fidati che lo trovi in un secondo, eh Mi devo sforzare Allora, allora Fai pensare Un super indizio Vuoi o un piccolo indizio? Un super Voglio un super indizio Cattivissimo Un super indizio? Allora ti dico giga No, era piccolo, piccolo Piccolo Ah, eh, ormai te l'ho detto Giga Bro Potresti essere tipo Cosa è successo? Ref Ah, beh, stai registrando Ho già capito tutto Ho già capito Non possono vedermi, vero? Non possono vedermi Ref 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 Non posso volermi, bro Bro, 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 bro È venuto Ma dov'è? È venuto Cosa? Bro, è venuto, ref Bro, è venuto, ref Non sto scherzando È venuto, ref Mi ha cliccato una roba E adesso sono Una persona Gigi Gigi Bro, ma ha cliccato Ma sì, sono il fenicottero adesso Oh, è il fenicottero Allora dobbiamo sbrigarci Ferro Così lo possiamo vedere Fermo, fermo No, raga, raga Qualcosa mi puzza Qualcosa mi puzza Sarà uno dei soliti vostri video Oh, mio Dio Ho barato Eh, baro, baro Allora, io provo a andare in un punto a caso Vediamo Tipo, non so Vado in questa zona Io ferro di seguo Perché se me lo trovi Poi No, ma va Non posso trovarlo Cioè, fidati che è molto Molto più difficile del previsto Ah, sì, sì Adesso tanto gli fa vedere il video Che mi hai appena fatto No, avevi Avevi per caso detto Giga Chad? Gigi Ok Ok, ok, ok Let's go Ho capito Altre che lo sa per noi Ora, raga, tocca No, ma piano Tocca metro per loro due Così abbiamo capito Non abbiamo neanche Cioè, non abbiamo neanche Sto qua in camera Ok, sta qua in camera Va bene, raga Eh, meno male Perché prima è venuto qua da me Senza motivo Sta qua in camera Allora, sì, sì, sì Non bariamo per nessun motivo Quindi, state tranquilli La vinceremo noi comunque Dobbiamo essere più forti Per forza È il momento Veloci Nascondetevi ragazzi Che noi Stavolta non veniamo Ok Refè qua con me State tranquilli Che non verrà a rompervi le scatole Ok, se doveste vederlo Tranquilli Blocchiamo il video Va bene? Tu non hai capito Ho trovato un nascondio Assurdo Non puoi capire Ok, io vabbè Forse vi stavo già spiando Ragazzi ma C'è una musichetta bellissima Sto coso qua Cioè, se io clicco Downs Clicco Viene fuori Uno che fa È bellissimo raga Eh, sì è bellissimo Fallo dopo Com'è che fa boa Fa E che Chi era per dire Capito No Cosa stavi facendo Vabbè Io parto signori Allora Nessun Tipo Di baramento Eh, speriamo Posso capire dei piccoli indizi ora Allora Io sono Una cosa È molto rosa Ti dico questo Una cosa molto rosa Ok Sei una cosa rosa Vabbè ragazzi Sto gioco non ha senso Guardatemi letteralmente Chi sta guardando il video Guardatemi Sto mondo non ha senso Forse non ha senso Letteralmente Allora Te lo dico Qua è tosta Comunque Ref Sta qua raga Stai tranquilli Ciao raga Sono qua Non mi sono mosso Oh oh No No Ferro Sì Sei troppo lontano Da me conta Troppo lontano Troppo lontano Allora Allora me ne vado via Quindi non sei qua Sì Vai via Bravo Bravo Sentiamo nel ping degli oggetti Allora Oh Nè ma non ci credo Hai urlato non l'ho sentito Sei questo cosa rosa No 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 Allora Ti dico se vuoi Dov'è Powa Powa è esattamente davanti Alla Ikea Proprio dove sta Ikea Davanti all'Ikea Ho capito Scemo Ho capito Sto arrivando Ho capito Ok Non mi acconti Giuro Adesso vengo su Se mi trova Adesso vengo subito Ti stacco la rec Non lo so Quello che faccio Adesso Ma niente Poi è ferro Che sarà Per me non è un problema Se stacchi la rec Sei per caso qua Powa Bruno No 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 Via 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 Perché non ho sentito Il ping degli oggetti Dove sta Ikea Dove sta Ikea Stava Powa Beh Ikea è tutta la mappa Davvero Ikea si è Beno male Tutta la mappa Bruto Che foto che non sei altro Sotto le paperelle Quelle grandi Di Ikea Là vicino Hai rotto Stai zitto Scemo Eh si Gigi Non lo posso vedere Io non lo posso vedere Conti non l'ho ancora trovato Conti è nascosto Molto molto bene E vabbè Però stai tranquillo Che adesso lo troveremo Vabbè vado nelle toilets Intanto Bravo bravo Vai da quella Ecco Poi stai esattamente davanti a te No 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 Ma io non ci sono Raga io non ci sono Ma infatti Cosa state parlando Stai sentendo qualcuno Che si muove Potrei No aspetta C'è andato Powa Oddio Oddio Stai molto vicino Powa Secondo me Molto vicino Ok Obbligo a fare un balletto C'è un obbligo di fare un balletto Ma invitare Allo su Ford No 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 Su Ford Io sto facendo un balletto Allora Se fate un balletto Io sto facendo un balletto Potrei salvarvi Ferro Ti sta dietro Powa Perché stai venendo verso D'altra parte Non lo so Perché non l'ho visto Powa No L'ho proprio visto Ok E va il tuo turno Conti Tranquillo È arrivato il tuo turno Sta arrivando No Powa Sta arrivando in camera Tu Ti distrugge E poi Tengo gli ultimi 5 minuti Oh Ho sentito qualcuno Arrivare di corsa Allora Conti Che bello Tu sei proprio Zitto 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 Powa Powa Una palla di quelli che Utilizzano i gatti Capito Per giocare Dentro la sala informatica Quindi Niput Non sei qua Ah ok dritto Ok Sì 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 Proprio dritto Sì 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 Guarda Guarda che stavo Cambio posto Uccidelo Dai alzati Vai vai Fallo muovere pure Tranquillo Mamma mia come si nasconde bene Vado via Vado via C'è la polizia Vado via C'è la polizia Non so dove andare Non so dove andare C'è la polizia Conti Conti c'è la polizia No vabbè Allora Noi mai Se fosse diventato Tipo una papera No Non può mai essere diventato Una papera Vero Non puoi mai essere diventato Una papera Scappa che può Mi sta dicendo 96 Scappa Scappa che non ti vede ancora Tra poco che ti arriva A prendere conti eh No 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 Devi scappare fortissimo Oddio Buo è un infame ragazzi Ah povero infame io Ma no Ok mi hai detto Tu puoi che sei tipo Un barile Se devi dietro un barile Se una papera Quindi scappa Scappa Con chi Sì 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 Devi correre Ma come si è Che c'è la parile Ti conviene correre Soprattutto sapevo Che eri una papera Pure quindi Pensa un po' te Papera No no Scappa mi raccomando 5 secondi 5 minuti Ok ti lascio 5 secondi Vai vai 5 minuti Finisce il timer Mi sono scosso Ferro mi sono scosso Una cosa Che mi piace tantissimo Mangiare ma proprio tanto Mamma tantissimo Ok Vai 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 Quindi una banana Probabilmente Ma come fai a saperlo E sei bravissimo Andiamo nella zona Andiamo Volevo andare nella zona magazzino Tra l'altro è vero Forse hai tolto i suoni Per togliere più Cos'hai sentito Ok È stato il vento Ok Allora Magari c'è qualcosa Tipo potresti essere una scala No Non lo so Possibile Impossibile Ma perché non ti riesco a trovare Incredibile questa cosa ragazzi Guardiamo 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 Fermi Fermi Sì Mi è scappato Fermi Potemi andare a veder di là Magari No è tornato nei cesti Te lo dico io È tornato nei cesti Per forza Ragazzi Per favore Per favore Basta Basta Io mi hai fatto scappare Non ho Nel momento Idea E se riesci a vincere pure l'ultimo round Vabbè Penso che l'avevate capito Meglio di chiunque Che era stato Refe Che andava nella vostra stanza Aspetta Devo dire una cosa a Refe Però Oddio ma qua se non ci sono le chiavi Della sua macchina Diciamo che non sei stato bravissimo Te Refe Dicevi Conti No Dico che qua io ho le chiavi Della macchina di Refe Ho capito Va bene Conti le chiavi della sua macchina E anche il portafoglio Vabbiamo vedere cosa succede Pure il portafoglio No No Non Non ho Non ho toccato nulla Dove è stato le chiavi della macchina Allora Che la macchina sono quelli No però non l'ho toccato Ah quindi fermi Questa è la postazione del più scherzo Allora Un po' Carzo no Però se c'è qualcuno che fa l'infame E non è colpa mia Allora Io posso dirvi una cosa Che Sì 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 Scolacci No Aia Comunque Fatevi vedere Stavolta Comunque Da noi è tutto oggi Aia 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 Direbbe Scappa Boma Noi ci vediamo nel prossimo video Vi raccomando Corso per Like Iscrizione Noi ci vediamo